buongiorno ragazzi bentornati al nostro appuntamento c'è stata una leggera sosta delle nostre news dovuto anche al fatto che siamo stati abbastanza impegnati con le consegne siamo un po in ritardo cercheremo di accontentare un po tutti perdonateci ma stiamo cercando di andare a ritmo sostenuto siamo sempre qua non andiamo in ferie non chiediamo mai quindi se volete scriveteci mandateci mail social telefonate oggi volevo presentarvi una cosa che in realtà noi avevamo già fatto ma abbiamo diciamo migliorato che era solo richiesta ed è tuttora ancora solo la richiesta sul tac 9 ed è lo sgancio caricatore ambidestro classico sgancio e sgancio mancino ok ha un meccanismo tipo bilanciere ed è su richieste ovviamente arma scarica caricatore vuoto ovviamente sgancio e sgancio ok ha un meccanismo tipo bilanciere ed è su richiesta sui tac 9 ovviamente perché proprio per la piattaforma dedicata è molto più difficile da gestire il fattore dello sgancio caricatore comunque vi ringrazio ci sarà un'altra news a breve non dimenticatevi di di scriverci di contattarci qualsiasi cosa sempre a vostra disposizione ancora grazie per la vostra pazienza e alla prossima